Sono tanti gli elettori che hanno avuto fiducia in me, non solo a Fano ma anche in tutta la provincia. Il dato straordinario è che su 4.800 voti che ho raccolto e quindi 4.800 persone che hanno avuto fiducia in me, 2.800 sono di Fano e 2.000 sono distribuite in tutti i comuni della provincia. Quindi questo è il segno e il frutto di un lavoro fatto nel tempo, fatto negli anni, seminando lavoro e seminando anche coerenza, fiducia e serietà. Quindi questo insomma la premiata? Beh sì, io credo che in politica si debba essere seri, concreti e coerenti, non come chi per rimanere sulla poltrona ha fatto il salto da centrodestra a centrosinistra, mi riferisco a Spacca e Solazzi che poi sono stati pesantemente puniti dall'elettorato. La coerenza credo che in politica sia una cosa fondamentale perché la coerenza significa rispetto per i cittadini che ti danno fiducia. Io ho sempre lavorato con coerenza, ho sempre lavorato tanto, il mio telefono è sempre acceso, sono sempre a disposizione dei cittadini, questa credo che sia un po' la mia caratteristica. Dopo è chiaro, non tutti i problemi si possono risolvere, però bisogna avere sempre la coerenza e il coraggio di dire di no quando bisogna dire di no, quindi o sì sì o no no, perché questo sta nelle regole dell'essere rispettoso degli altri. Ora immagino si dimetterà anche da Presidente del Consiglio Comunale di Fano? Il fatto di essere consigliere regionale non significa che i due ruoli siano incompatibili, ma è ovvio che mi dimetterò dal Consiglio Comunale di Fano, mi dimetterò da Presidente del Consiglio Comunale perché per dedicarsi a pieno titolo ma anche a pieno regime, quindi a tempo pieno in Regione, ovviamente non potrò corrispondere all'impegno che chiede il Consiglio Comunale di Fano. Quindi mi dimetterò nei prossimi giorni, non appena la maggioranza sarà pronta a predisporre il mio successore. E chi sarà? Ci può accennare qualcosa? Beh, questa non è una decisione che posso prendere io da solo, è una decisione che dovrà essere presa dalla maggioranza di centro-sinistra e che dovrà essere sottoposta all'attenzione del Consiglio, perché poi bisogna proporre un candidato presidente ma che poi deve essere votato, quindi sarà la maggioranza a dover decidere.